ciao a tutti eccomi qui con un nuovo video in questo video voglio fare vedere come possiamo creare un semplice collage di natale utilizzando vari elementi che ne ho prendere su internet e per questi elementi andiamo a trovare uno sfondo una texture di legno quindi degli aghi di pino pan di zenzero e regali e poi insieme creeremo in questo collage andiamo ad aprire photoshop andiamo su file nuovo e qui vado in carta internazionale come carta internazionale metto una 4 però lo metto dall'altro lato quindi 297 per 210 andiamo a sbloccare il livello e vado a mettere come sempre il centro vado ad aprirmi i vari elementi iniziamo con lo sfondo andiamo qui tasto destro e lo vado a portare in senza titolo 1 andiamo in senza titolo 1 e lo ingrandisco in questo modo lo posso anche un po sproporzionare tanto è un effetto legno vado a prendermi vari elementi mi sono preso questo pacco ok per far sì che viene bene vado su luminosità e contrasto e mi vado ad abbassare un po la luminosità e anche il contrasto in modo che riesco a vedere il pacco vado qui sullo strumento penna e vado con la penna inizio sul primo punto clicco il primo premo shift e vado qua vado qui se non sapete come si utilizza la penna c'è un tutorial apposta e vado qui ora vado su tracciati vado qui e mi vado a fare selezione prendo la freccia vado su modifica copia vado in senza titolo 1 vado a fare modifica incolla ecco qui mi vado a ingrandire il pacco e me lo metto qui vado qua e lo metto così vado sul livello qui e vado a mettere l'ombra ecco qui vado adesso qui sul pan di zenzero vado a selezionarmi con la il lazzo normale uno dei pan di zenzero questo è già in png quindi già scontornato prendo la freccia vado su copia modifica copia vado qui file modifica incolla prendo la gomma e vado a cancellare vede questa parte qui vuoto e lo mettiamo qui piccolino vado qua e vado a fare ombra esterna ok ora andiamo qui negli aghi di pino vado a prendermi qui la bacchetta magica e vado a sbloccare il livello eccolo qui cancello e qui vado a fare duplica e me lo porto in senza titolo 1 vado a prendere la bacchetta magica e vado a cancellare vado a cancellare tutti questi pezzi qui andiamo su intervallo colori e andiamo a cliccare qui sul bianco e andiamo a cancellare ok andiamo qui e andiamo a mettere ombra esterna ok adesso vado a prendermi questa mollettina sempre con la bacchetta magica attiva vado a sbloccarmi il livello e cancello qui mi vado a cancellare anche questo vado a prendere la freccia disposta faccio duplica speciale senza titolo 1 me lo ruoto me lo metto così prendo bacchetta magica e cancello anche qui rimpicciolisco e questo ce lo mettiamo così adesso vado a prendermi lo strumento pennello vado a prendermi un pennello lo faccio abbastanza sottile vado a creare qui un nuovo livello mi vado a prendere come il colore il marroncino e vado a creare un filo vado qui questo lo metto sopra e vado qua vado qui e vado a fare smosso ed effetto rilievo ok andiamo a prendere il livello del filo e lo andiamo a mettere sopra vedete sopra la mollettina e andiamo a cancellare poi con la gomma in modo che facciamo vedere questa cosa che è all'interno della molletta la stessa mollettina andiamo a duplicarla in modo che andiamo a crearne altre duplichiamo un'altra volta e quindi facciamo tre mollettine sul filo andiamo a prendere il livello delle due mollettine e le andiamo a mettere tutte quante in primo piano andiamo sul filo vedete sul livello del filo e andiamo a cancellare la parte che poi dovrebbe andare a collegare all'interno della mollettina andiamo sulla forma e andiamo sul quadrato andiamo a creare un quadrato vedete che va sopra la mollettina perché dobbiamo far sì che sono delle foto che stanno all'interno quindi vado poi a riempirlo di colore bianco vado a posizionarmelo in modo che vado a far sì che la fotografia vada comunque sotto la molletta una volta che ho posizionato questo quadrato vado sempre sulla forma del rettangolo vado a togliere il riempimento e vado a mettere una traccia che poi gli do io lo spessore di quanto voglio che sia larga gli applico una maschera veloce vedete in questo modo e porto il livello della fotografia sopra la mollettina ma sotto il filo ora vado col pennello e vado, vedete, a cancellare sulla fotografia per far uscire il segno della mollettina in modo che si vede che va all'interno della mollettina dopodiché vado sul filtro e vado a mettere un'ombra esterna per creare comunque un effetto ombra torno sulla forma del quadrato e vado a mettere un retro che poi questo sarà comunque una fotografia inserita da voi vado a togliergli la traccia e gli metto il riempimento prendo questo quadrato e lo porto sotto ma lo devo portare sotto anche sotto la mollettina altrimenti, come potete vedere, la mollettina non si vede più ora prendo questo che ho creato e vado a portarlo sotto tutte e due le altre mollette duplico, vedete, e me lo vado a copiare di là però poi devo riadattare in base ad ogni mollettina grazie a tutti ecco qua, come avete visto il collage fotografia è pronto spero che vi sia piaciuto e che possa esservi utile per realizzare delle foto per questo periodo di Natale per fare un bigliettino e per fare quello che vi va noi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti